Benvenuti a Tu per Tu, nuova puntata, nuovo faccia a faccia con uno dei consiglieri provinciali, in questo caso siamo con Claudio Civettini di Civica Trentina che ringraziamo per essere con noi benvenuto. Tanti gli argomenti di dibattito in queste settimane, Civettini, lei si è occupato un po' di tutto in generale ma magari forse vale la pena cominciare da quella che è la madre di tanti problemi che è quella del lavoro, la tematica del lavoro. Certamente sì, io credo fermamente che all'origine di tutte le situazioni di sofferenza anche in Trentino ma non solo in Trentino ci sia proprio il tema del lavoro, il tema dei nostri giovani, il tema delle pensioni ma non in modo demagogico, proprio in modo direi scientifico nel senso che se noi riuscissimo a trovare idee e soluzioni per dare e per generare lavoro probabilmente molte altre situazioni di conflitto si allenterebbero da questo punto di vista. La Valla Garina in modo particolare, lei l'ha seguita ma è anche uno dei territori insomma che maggiormente esprimono queste potenzialità ma ad oggi purtroppo anche queste problematicità. Certo, la Valla Garina in modo particolare perché era il polo industriale per eccellenza voglio dire del Trentino ed è chiaro che è quella che sta soffrendo più di tutto ma non solo la Valla Garina, pensiamo alla situazione paradossale della Mariani della Valle di Ledro dove un'azienda in sviluppo attraverso delle alchimie non troppo chiare probabilmente troverà altre destinazioni e altri lidi. Pensiamo alla Subaru che ci ha lasciato per la Lombardia, pensiamo alla Whirlpool anch'essa voglio dire che ha lasciato non tanto la Valla Garina quanto il Trentino. Bene, a fronte di questo credo che siamo arrivati ad attuare un percorso completamente errato, quello dei Lisbeck perché negli anni scorsi si pensava, hanno pensato, la giunta provinciale ha pensato che attraverso il finanziamento a chi gestisce l'industria si trovassero le soluzioni, invece così non è stato perché purtroppo abbiamo finanziato anche delocalizzazione impropria o meglio la formazione per esempio di aziende all'estero, a Capitale Trentino, che devono servire i mercati domestici. Ebbene, credo che questa sia una politica sbagliata, dobbiamo avere il coraggio non di fare processi ma di metterci a un tavolo al di là delle bandiere e di trovare soluzioni reali perché questo ci chiedono i nostri giovani che purtroppo, ahimè, e li ho visti proprio in un recente viaggio anche in Brasile, oggi espatriano con una, due lauree per trovare soluzioni che il Trentino non sa dare. Quindi lei dice abbiamo finanziato realtà che poi al Trentino non daranno niente, non avranno ricadute? Ma abbiamo finanziato, peraltro ci sono atti ispettivi puntuali attraverso i Lisbeck e poi sono dei leasing immobiliari nella realtà, attraverso perizi asseverate che determinavano per esempio il valore degli immobili che oggi sappiamo essere svalutato, perciò anche questo va rivisto. A noi rimangono gli immobili e dall'altra parte i lavoratori vanno a casa, questo sicuramente non è un successo e ripeto non è un processo a qualcuno o a un percorso, ma sicuramente deve essere un momento di grande riflessione perché devono... Mi viene in mente la Whirlpool? Ci sta? Ci viene in mente la Whirlpool che ha preferito lidi diversi all'interno di situazioni che sono tipiche delle multinazionali. Ecco, noi dobbiamo investire sulle aziende trentine, sul sistema dell'artigianato trentino e per esempio anche nel settore, nel recente viaggio fatto in Brasile, abbiamo visto una piattaforma di aziende trentino, dico la Overplastic, dico la Gasperotti, che attraverso i trentini che la operano hanno trovato un mercato e stanno operando e perciò in questo senso dobbiamo pensare che dobbiamo lavorare per salvaguardare posti di lavoro ma anche il futuro. Quindi spostare il mirino in sostanza. Spostare il mirino, avere il coraggio di non avere le certezze in tasca e di confrontarsi con quello che sono le realtà ma anche il futuro del cambiamento. Ecco, a proposito di lavoro, un'altra categoria che soffre è sicuramente quella dei docenti, degli insegnanti anche questo è un tema che lei ha seguito, soprattutto i precari che in parte dovrebbero essere stati riassorbiti ma che una buona parte è ancora lì che attende. Ma noi siamo davanti a situazioni paradossali. In provincia di Trento, in tema di docenti e in tema di precari in modo particolare, si è riuscito a fare peggio che a Roma e che vuol dire essere bravi per far peggio che a Roma. Praticamente sono state fatte, sono state create delle fasce non si sono rispettate sentenze sia della Corte Europea sia di indicazione della consulta nazionale e a fronte di questo chiaramente si sono fatti dei grandi pasticci perciò noi ci troviamo, ci troviamo dei docenti, delle docenti che dopo 12, 13, 15 anni di precariato stabile saranno mandate a casa, ripeto, docenti precarie trentine che verranno mandate a casa e avremo madrelingua baresi, ad esempio, che verranno a insegnare il tedesco, il famoso ichelibediche, voglio dire, ai nostri bambini. Credo che al di là, ripeto, di tutte queste divisioni si doveva fermare il tavolo, mettere tutte le parti intorno a un tavolo e trovare le soluzioni che potessero gestire la transizione. Bene vengano le riforme ma la transizione è dopplico. Una ultima considerazione le chiedo, il tempo lo sa benissimo e tiranno le farei sentire il commento di un giovane che abbiamo fermato per strada al quale abbiamo rivolto la domanda che cosa ne pensa sulla questione immigrati in questo momento vorrei farle sentire questo suo pensiero e chiuderlo con il suo. È sbagliato, diciamo, respingere gli immigrati per quello che si può bisogna aiutarli in qualche maniera, questa è la mia opinione. Dopo che si possa fare dei centri, come integrarli da qualche parte, farli lavorare questa non saprei dirle sinceramente, soltanto che con una situazione di emergenza in questo periodo è disumano lasciare queste persone ai loro destini, insomma. Ecco, qua si contrappongono due ragionamenti, da una parte il destino appunto drammatico, difficilissimo di queste persone, dall'altra l'integrazione e la necessità appunto di rendersi disponibili. Lei che cosa ne pensa? Io dico che la parte umana va assolutamente salvaguardata. Affermo anche che è stato un delitto immane andare ad uccidere Gheddafi per andare a rubare le risorse. È chiaro che con l'uccisione di Gheddafi si sono liberate le tribù, perché questa è la realtà dei fatti, perché Gheddafi era il re di re. Detto questo, va anche detto che americani, francesi, inglesi e anche italiani devono smetterla di andare a rubare le ricchezze degli stati che oggi sono in piena sofferenza e dall'altra parte dobbiamo anche dire che vanno divisi i clandestini da chi effettivamente soffre la guerra. Anche noi siamo stati profughi, però i nostri profughi, ricordo Mittendorf, ma per dirne degli altri, erano donne e bambini, perché gli uomini erano coinvolti nella guerra. Poi peraltro io ricordo un'icona particolare che sin da piccolo mi segue e sono i bambini denutriti, che sono tipici sulle riviste di migrizia o comunque su riviste missionarie. Bene, di tutti questi non ne vediamo uno, perché dobbiamo vedere, vediamo normalmente dei ragazzi assolutamente normalissimi che vivono più o meno come noi o meglio di noi. Allora a fronte di questo credo che il ragazzo che ha espresso correttamente il suo giudizio provi a pensare anche al suo di futuro, non in modo egoistico, ma in modo assolutamente complementare affinché la solidarietà vada data assolutamente sì ai popoli in guerra. I clandestini vengano respinti, perché questo è il tema preciso e puntuale e che comunque e in ogni modo non si possa pensare che i trentini, le problematiche che abbiamo sul nostro territorio siano secondari a queste. Le priorità sicuramente vanno lette anche all'interno delle emergenze, ma le emergenze non possono diventare le priorità rispetto a tutte quelle che sono le quotidianità delle nostre genti. Questo non è fare divisione, ma è cercare di mettere ordine all'interno di un sistema che diversamente è un'invasione. disciplinare insomma ciò che potrebbe diventare... Direi peraltro, mi permetta, il rispetto delle regole, perché Piazza Dante anziché i giardini della stazione di Rovereto ci dicono che lì, e sono in gran parte immigrati che sono arrivati con i barconi, sicuramente le regole non sono rispettate, stanno diventando delle bande, delle siti assolutamente incontrollate e lì noi dobbiamo pretendere che le stesse regole che vengono applicate per i trentini vengano applicate anche per queste persone. Ringraziamo Claudio Civettini di Civica Trentina per essere stato con noi, gli auguriamo un buon lavoro e ovviamente l'appuntamento a voi tutti e alla settimana prossima. Arrivederci. Grazie a voi. Grazie a voi.